la promessa anticipazioni. Cosa succederà quando la verità nascosta esploderà come una bomba? Nei prossimi episodi, tensioni, tradimenti e segreti rischiano di trasformare ogni certezza in polvere. Tutto comincia con il tanto atteso matrimonio tra Curo e Giulia, un'unione che, dietro l'apparente eleganza e fastosità, nasconde più manipolazione che amore. Lorenzo, sempre più avido e calcolatore, cercherà di sfruttare questa occasione per ricattare Osequan. La richiesta è semplice, parte del denaro ottenuto con l'inganno deve tornare nelle sue tasche, altrimenti non esiterà a rivelare la verità a tutti. E se Alonso scoprisse che Giulia e Osequan sono solo due opportunisti? L'equilibrio potrebbe spezzarsi in un attimo. Prima di continuare, se vuoi rimanere aggiornata e ricevere in anteprima i video della promessa, scrivi sì nei commenti. Ricominciamo. Osequan, impaurito e consapevole di quanto sia fragile la sua posizione, finirà per accettare le condizioni di Lorenzo. Ma ciò che entrambi ignorano è che Kuro inizierà a mettere insieme i pezzi del puzzle, scoprendo non solo l'inganno orchestrato, ma anche che Lorenzo non è mai stato il suo vero padre. La scoperta lo getterà in uno stato di furia incontrollabile, portandolo a smascherare Lorenzo pubblicamente in un confronto che culminerà in uno schiaffo che cheggerà come una sentenza. Intanto, nella villa della promessa, l'atmosfera sarà carica di tensione e conflitto. La cerimonia nuziale si svolgerà nella sala grande, decorata con eleganza e raffinatezza, ma i volti degli ospiti rifletteranno sentimenti contrastanti. Giulia, raggiante nel suo abito da sposa, manterrà un sorriso trionfante, ma Kuro mostrerà un'espressione rigida e distaccata, incapace di nascondere il suo disappunto. Durante il momento clou, Giulia pronuncerà un deciso sì, mentre Kuro esiterà prima di dichiarare il proprio consenso. Questo non sarà un matrimonio d'amore, ma piuttosto l'inizio di una nuova battaglia per il controllo e... La sopravvivenza. Dopo la cerimonia, mentre gli ospiti brindano e scambiano convenevoli, una figura misteriosa osserverà tutto da lontano, evitando interazioni e mantenendo un'aria di pura formalità. Nella mente di Giulia, una sola convinzione, nulla può separarci adesso. Tuttavia, quando la notte scenderà e la coppia si ritirerà nella stanza preparata per la loro prima notte insieme, la tensione raggiungerà il culmine. Giulia, desiderosa di consolidare il legame con Kuro, si avvicinerà a lui con un sorriso dolce, ma lui la respingerà freddamente. Non ti avvicinare, dirà con tono glaciale, lasciandola senza parole. Le sue parole taglienti spezzeranno l'euforia di Giulia, che implorerà, siamo marito e moglie, possiamo ricominciare insieme. Makuro, pieno di disprezzo, dichiarerà che non c'è possibilità di felicità in un matrimonio basato su menzogne. Il rifiuto lo spingerà a lasciare la stanza, dichiarando che dormirà altrove. Rimasta sola, Giulia sarà travolta dalla disperazione. La stanza, che avrebbe dovuto essere il luogo della sua vittoria, si trasformerà in una prigione. In un accesso di rabbia, scaglierà un vaso contro il cammino, urlando contro il vuoto, ho fatto tutto questo per noi, e ora mi odi. Il rumore attirerà Osequan, che entrerà nella stanza per cercare di calmare la situazione. Trovandola in lacrime, cercherà di farle vedere il lato positivo, hai ottenuto ciò che volevi, sei parte di una delle famiglie più potenti della regione. Questo è solo l'inizio. Ma Giulia, distrutta, confesserà i suoi rimpianti, non ne valeva la pena, Osequan. Ho perso tutto, persino me stessa. La sua vulnerabilità metterà in allarme Osequan, che cercherà di convincerla a non abbandonare il piano, pensa a ciò che abbiamo costruito. Non è solo per te, ma anche per me e per il futuro che abbiamo immaginato. Giulia esiterà, combattuta tra il desiderio di liberarsi da quella farsa e la paura di perdere tutto. Durante questa notte turbolenta, le dinamiche tra i personaggi raggiungeranno livelli di intensità mai visti. Curro, lontano dalla villa, rifletterà sulla verità appena scoperta. La rivelazione della sua vera origine lo getterà in un vortice di domande, chi è il suo vero padre? E cosa significa questo per il suo futuro? Intanto, Giulia tenterà di trovare un equilibrio tra la sua ambizione e il peso delle sue scelte. Il giorno successivo, nella villa, l'apparente normalità nasconderà un vortice di segreti. I servitori eseguiranno i loro compiti quotidiani, ma i sussuri e le occhiate furtive lasceranno intendere che nulla è come sembra. Osequan, nel suo ufficio, lavorerà febbrilmente per consolidare la sua posizione, mentre Giulia, sempre più isolata, cercherà conforto nei pochi momenti di solitudine. Nel frattempo, Alonso inizierà a sospettare che qualcosa non vada. La sua attenzione si concentrerà sui comportamenti di Giulia e Osequan, intuendo che dietro i loro sorrisi di circostanza si nasconde una verità inconfessabile. La tensione aumenterà quando deciderà di convocare Lorenzo per un colloquio privato, determinato a scoprire cosa stia realmente accadendo. Ma sarà curo a prendere la decisione più drastica. Tornato alla villa, affronterà Giulia con una calma glaciale che nasconderà la sua furia. Hai distrutto tutto, le dirà, ma non ti permetterò di rovinare anche me. Giulia, colpita dalla sua freddezza, cercherà di giustificarsi, ma sarà inutile. La verità sarà ormai una prigione da cui nessuno potrà sfuggire. E voi, cosa pensate accadrà dopo? Scrivete nei commenti le vostre teorie, curo riuscirà a smascherare definitivamente Lorenzo e Giulia? Oppure il piano di Osequan troverà un modo per sopravvivere ancora? Fateci sapere la vostra opinione, e non dimenticate di lasciare un mi piace se siete curiosi di scoprire come si evolverà questa intricata vicenda. Ma attenzione, perché il vero colpo di scena deve ancora arrivare. Una figura misteriosa, fino ad ora rimasta nell'ombra, si farà avanti. Portando con sé una verità che nessuno avrebbe mai immaginato. Chi sarà? E come cambierà le sorti della villa e dei suoi abitanti? Non perdetevi il prossimo episodio di La Promessa, perché la storia è solo all'inizio. Tornate sul nostro canale per non perdervi nessun aggiornamento e preparatevi a nuovi colpi di scena che vi lasceranno senza fiato.